Siamo con Cesare Buree di Margas, broker assurcurativo. Vogliamo chiedere, quanto rischiano oggi le aziende? Le aziende che non sono preparate nel rischio cyber rischiano di chiudere. Per quanto riguarda le PMI, il nostro studio sta seguendo dei sinistri, oggi in corso, dove una PMI può rischiare tra i 100 e i 400 mila euro di sinistro con tranquillità. Sono cifre importanti in un panorama come il nostro. Voi avete proposto una soluzione innovativa a questo tipo di problemi, me ne parla? Sì, proprio la scorsa settimana insieme a un produttore di IT Security abbiamo sviluppato una soluzione integrata di IT Security dell'endpoint con una soluzione assicurativa. Questo perché all'assicuratore interessa l'utente bravo che si preoccupa della sua macchina e che la protegge. A quel punto l'assicuratore dice, bene, io ti do un trasferimento, un qualcosa in più rispetto alla semplice protezione dell'endpoint. Grazie.